Salve a tutti! Em! Salve a tutti! Riprendo dopo un bel po' di tempo il gameplay di Planet Explorers, dopo aver anche visto che la Patea ha ripreso il bug fix del gioco. Credo comunque che abbiano ancora un po' da lavorare, questi mostri li avevamo sconfitti l'ultima volta. Non resta che teletrasportarmi all'accampamento terrestre, e da lì partire alla ricerca della seconda nave. Non c'è qualcosa che ti vedo ogni giorno. E' solo un po' di maledità. Ehi! C'è qualcuno qui qui? C'è qualcuno qui qui? C'è quello che ha fatto con tutto ciò? C'è cosa pensi, dovremmo aiutare? Si C'è questo? Se vogliamo aiutare, dovremmo aiutare questo. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi hai cambiato idea sull'aiutare i marziani. Look, they're injured. And so as humans, we're obligated to help. We'll send them on the way to Alfonso, once they've healed up a bit. We can do that much. Now, let's get them down. Nice speech part two, right? Right. Atar, non preoccuparti. È vero, non so usare l'editor come si deve, ma la Patea ha collegato il gioco allo Steam Workshop. Vediamo se trovo un modello semplice di elicottero che si possa costruire con i tuoi pochi ingredienti. Potrà essere utile anche per muoversi rapidamente nella foresta, visto che il triciclo del dottor Carter si pianta contro ogni albero. Wellhmm. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Ma che cazzo? Se potevate fare fin da subito il salto della fede, perché avete aspettato che un povero stronzo venisse con un elicottero multiposto? Altri misteri risolti nel codice scritto dalla Patea. Vabbè, io ho il salto della fede, preferisco farlo con l'aliante. Ataro prendimi poco per il culo. It was made on Earth, after all. Something hit us while we were deorbiting. Supposedly, there are intelligent natives on this planet, so they might have had something to do with it. It's true. I saw myself. Hey, we're back. Ah, Ataro! Yo, Vera, we've got some wounded. Oh, hey, look, I'm way down here. Are they the only ones? There were two ships. I'll get the med kit. They're the only ones. Ok. Puoi spiegarmi ora come costruire un insediamento. All right. I'm still tweaking the scripts for some of the prefab building parts, but I'll give you the ones I have right now. You did attend my course how to build a settlement 101 back on the Epiphany, right? C'era un corso così? How did you manage to overcome the colonists' selection process? Listen up. I'm only going to do this once. The scripts I gave you are the prefabs for the assembly, the coal power station, the dwelling, the repair machine, the enhance machine, the recycle machine, the factory replicator, the medical facility, and storage. I do not care how you choose to build your colony, as long as you place the prefab parts down first. To start, you must place down the assembly building. It's a prerequisite for all the other buildings, as it creates a static field that keeps most of the animals at bay. You'll also need to place down a power station, as this will power your settlement. The power plant can only support a certain area with wireless energy transfer, so you must make sure that you place your prefabs and turrets within that range. Once you have these two buildings, you'll be able to place other structures. I would suggest you start with the storage and dwelling builds, as you'll need them for people to actually live in your settlement. As per safety regulations, you'll need to make sure that all the prefab structures are placed inside the static field. Other than that, you'll be able to keep track of all your settlement functions from the colony icon on your management interface. Included are all of the personnel you've gathered to the settlement. Each colonist is pre-screened, so you can expect bright and talented individuals. You can train them for specific functions by placing them in specific buildings eventually. So you'll know everything about the animals of this planet. Well, no, we've only documented some. Here, let me hook you up the species' wiki. Help me add an entry whenever you meet new animal. Then, in no time at all, we'll have all the species on this planet documented. Can I help you? Oh yes, I was just at a lake a little bit north up here. There was this strange fish species living in the lake. I only caught a glimpse of them, but they seem way too big to be living there. So, I want to study them more closely, to start forming a better understanding of the evolutionary path life took on this planet. You look like the adventuring sort. Want to go with me on an expedition of discovery? Good. Let me mark the lake on your map. It's a very beautiful place. Can I help you? Have a nice day. What do you want now? Oh yeah, even though we don't have any medics around, their wounds are relatively light. A broken bone here, and some burnt skin there. Nothing the med scanner can't fix. No, but I'm not too worried. They can take care of themselves. Still, if you have time, can you please go back them up? We're very much interested in why there's such strong electromagnetic interference in this area. If it's really the doing of the natives, then there's going to be a whole lot of trouble. It's actually a dream of mine to be a pioneer. I loved reading about the wild frontier days when we were just colonizing the solar system. I was about to head out to do a hydroponics project on Triton when they started the extra solar colonization initiative. I was one of the first to sign up. Because I belong to a large family, I'm not too worried about my parents and their old age. So, there's nothing holding me back. Bye! Hey! Yeah? Yeah? Oh, that's just sad. For them to come such a long way just to pass on like that. Well, we were the first three crafts out of the hangar, so the rest of the lifeboats probably landed to the north of us. We've got to widen our search in these directions from now on. No. Didn't she tell you she'd be returning soon? We've been expecting her to come in for quite a bit, you see. Hope nothing's happened to her. Hey, can you trace the route from here to where you last saw her and see if anything's up? Huh? Well, I'm a botanist, you see. I was the senior researcher at the St. Petersburg Botanical Institute, so I could have picked any colony mission on offer. And what could have been better than studying Flora on a whole new world? The only thing that kept me grounded was my aging mother. But my mom, she told me to follow my dream and live my life without regrets. At that point, how can I go against my mother's wish? What's up? I would like to see one. From what you described, I think we have three realistic courses of action here. We can ignore them. We can try to communicate with them. See if we can make any progress there. Or we can shoot up a bunch of them and send an example to the other indigenous population that the humans are not to be messed with. I'm sure most of us will go for option one or two. But we have to keep the option of a firefight open. Our lives are at stake. Where now, though, we'll need to observe them. See how they think. What they can do. And what level of technology they have. Once you set up a settlement, let's talk this over. There are 14 small and 4 large lifeboats on the Epiphany. If all of them made it out, that's up 316 people. Which means that there are still at least 884 people on the Epiphany. Assuming that the Epiphany crashed into the Newton continent up north, there should be a trail of lifeboats from here up until there. We'll need to come up with a search plan once you have the settlement up. I'm sure there are many other survivors and we'll need to find them before the indigenous do. Dov'erano diretti Ava e Peter? We had a talk about the possible location of the signal interference emission. It's somewhere to the west of here. But it seems to be coming from several locations. Let me mark them on your map. I don't know which one they went to first. so you might want to check out the closest one if you're going to look for them. I agree. Let's check out the one to the southwest first. Here, take this with you. It'll help you on your way. Be careful. I was part of the Star X team that designed most of the colony mission equipment. So I wanted to see things through. My wife is coming on the next ship. And I wanted to prepare a magnificent home for her before she arrives. It looks like that'll be on hold for now. My goal now is to make sure I get to see her again. Before I fund the new colony, I'd like to go to it and follow Agnes. I would never want to happen something. The good thing is that at least now, with the helicopter, moving in the forest is much faster. Peccato che sto trabiccolo consumi un mare di carburante. Senza la centrale elettrica della colonia, però non posso ricaricargli le batterie. Ecco i Tommy. Vediamo come sta. Siamo molto preoccupati. Aspetta, credo tu abbia saltato la parte dove dici che i nativi sono troppo veloci. Quindi non vuoi sapere se ho soccorso sopravvissuti? Quindi i tuoi genitori sono morti nei giorni della follia? Sì. Stavo a scuola in Chicago, quindi escapato quando le rocce erano scelte. Mi amici stavano lavorando nel porto del space Dubai, quindi solo avevano una half an hour di warno prima che tutto si è andato. Siamo realizzati alla fine. Siamo nata come era scelta che non potessi darvi la faccia. Siamo arrivati a tutti i al mattia. Ora tu sai come io. Questo è una cosa che va a horizonte uprisse a un sistema di caverno. Che sembra di circa 60 metri capissimi. È cattolissimo, non è? Ho studiato dentro una della caverni qui, e ci sono veramente di ultima di limestone e di marbo, molto simile a cazzi di più di gatti. Ma di ancora, ci sembra di un'albلى abbastanza di cazzi di azzine, Prendere alcuni cristalli sembra abbastanza semplice. Ok, recuperiamo questi cristalli. Nei trailer del gioco questo posto è molto più bello da vedere di così, ma io giustamente ho deciso di fare la ripresa con il temporale, così tutte le immagini sono smorte. Bravo Murmux, ma non dovevi avvicinare più gente al gioco con questi video? Tranquillo Fabio, mi rifarò con le prossime scene. Comunque non ho trovato nessuno nelle grotte che mi voleva fare fuori, meglio così. Ecco i cristalli. Grazie, probabilmente mi chiederò di più di te lato. Torniamo all'accantamento. Mi sa che per ora non vuole, andiamo al lago a vedere cosa combina Agnes. Murmux non si sente un cazzo. Leva sta pioggia. Ti basta dormire nel sacco a pelo. Miancora Margherese. Mi ha fatto una volta, adoro. Mi c'era più gozosa. Mi c'era più gozosa. Mi c'era più gozosa. E' un po' meno. La mia c'era più gozosa. Mi c'era più gozosa. Lago. E' un po' meno. Qu' meno bello, Questo è un po' meno ozostrum. La mia cazzo, Grazie a tutti. Dovresti saperlo che le opzioni del sonoro non vanno in sto gioco pieno di bug. È inutile che cerchi di impostare da lì. Alla fine lo hai capito. Grazie a tutti. Forse il pesce grande odia tutti quelli piccoli. Quindi che facciamo ora? Questo vuol dire che mi devo bagnare. Grazie a tutti. Ehm, forse non dovevamo farlo fuori. Mo cosa segui? Tranquillo Fabio. C'è il segnalino sulla minimappa. Cosa credi? Un bug di sto gioco ne compensa un altro. Cioè, hai girato tre ore come un coglione solo per tornare in superficie? Sarebbe stato gradito mettere anche un segnalatore d'altitudine. Altro bug. Murmux prepara la lista, ne hanno da fixare. Ah ok. Il nido era il buco dove prima hai girato tre ore. Aga gaga. Solo io non vedo un cazzo. Mi sa che si sono dimenticati alcuni elementi in questa scena. Oh, guarda! Oh, guarda! Ah! D'accordo, torno subito. Tanto le ho già raccolte prima. Quindi ecco te le. Cosa hai trovato sui Deu? Ok, qui c'è l'interessante. Stavo pensato che i Deu erano qualcosa come un fischio di cave, con un terribile eyesight e tutto questo. Ma no, non sono nulla come un fischio di cave. Sono solo un fischio di acqua. Quindi qualcosa o qualche evento li ritrovò in profondità lì in l'Underground. E hanno stato sviluppato con queste larvi sempre. Ricorda cosa succede? Posso fare qualcos'altro per aiutarti a risolvere il mistero? Se non avessi trovato l'Underground, non avessi avuto così lì, perché i fischi hanno ancora adattato alla vita dell'Underground. E' per questo che vediamo ancora in l'Underground. Potrebbe essere alcuni fossi o faggianti di faggianti dei membri dei specie in l'Underground. Potremmo, se mi prendi qualcosa, posso fare una analisi di DNA comparativa per vedere se ci sono alcune differenze. Ecco qua. Niente di interessante. Niente. Sembra pericoloso cercarli sotto terra. Sono eccitato. Andiamo. Murmux. Detta così quella risposta era molto ambigua. Taci Fabio. Si chiama traduzione letterale. Non vedo in che altro modo potevo tradurlo. Comunque per andare in ste cavolo di caverne dobbiamo attraversare tutto il continente da parte a parte. Secondo me a sto trabicolo ambulante non basta il carburante. Sai cosa vuol dire questo? Vero? Non dirmelo. Dobbiamo farcela a piedi? Purtroppo no, Fabio. Non è quello il modo. Vaffanculo Murmux. Ancora sto triciclo di merda. Ma non lo puoi rottamare e farti un bel bolide? Capisco che sei tirchio, ma attraversarsi il deserto con sta merda manco i genovesi. Hai un editor della Madonna in sto gioco? Usalo cazzo. Per farmi un veicolo decente mi servono delle parti che posso craftare solo con la fabbrica della colonia. Le macchine fatte come Dio comanda le vedremo poi, ora mi devo arrangiare con quello che ho. Dobbiamo arrivarci scavando. Beh, dovrebbero essere ottenuti qui, ma probabilmente è più facile da spiegare solo. Ok, ricordate di essere davvero quieti. Non vuoi diventare parte della freddizione. Guardate quello, fascinante. Multiplici queen. In tutto questo quando inizierà il combattimento. C'entra di non fare una scena. Magari possiamo fare alcune luci e scenderele. Ok, ho alcune. Usa e guarda le scende da gli ucchi e la freddizione. Ok, ecco. 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 Va bene. Fai attenzione. Adesso non mi resta che trovare un posto tranquillo dove stabilire la prima colonia terrestre sul pianeta Maria. Ed infine, ecco qua. Questa è la colonia che ho costruito, edificio per edificio, minando pietra su pietra. Vi piace. Le istruzioni per costruire la colonia le ho spiegate nelle recensioni e nel tutorial sull'editor che ho già pubblicato anni fa. Se non avete ancora visto questi video, trovate il link in descrizione. Uno dei motivi per cui ci ho messo tanto per far uscire questo video è stato proprio la costruzione di questo insediamento, che in modalità survival non è roba da poco. La vostra colonia, appena dopo la fondazione, sarà attaccata massicciamente dagli animali, quindi preparatevi fin da subito a difenderla piazzando torrette. Dispiace solo che lo Steam Workshop non permetta di archiviare gli edifici. Sicuramente in giro ce ne sono i migliori dei miei. Questa è la prima casa terrestre su Maria. Ci sono i letti e un po' di mobilia di base, peccato non possa ancora craftare i cessi e le porte. Si fa tutto all'aperto col massimo esibizionismo. Questo maniero è invece casa mia. D'altronde qui sono il sindaco, quindi perché non sperperare i fondi pubblici? Io mi sono concesso qualche lusso in più, oltre al bagno, rigorosamente senza porta per motivi logistici, ho anche un piccolo laboratorio, un ampio salone, un'officina e una galleria d'arte con dentro riprodotti i quadri di Leonardo da Vinci, il più grande scienziato della storia umana. Purtroppo dormo ancora nel sacco a pello, visto che non ho lo script per craftare il materasso da usare con l'editor. D'ora in poi, man mano che potrò craftare le varie porzioni di armi, veicoli ed oggetti, l'uso dell'editor diventerà sempre più importante. Questo, assieme alla gestione della colonia appena fondata, sarà il futuro ass di sviluppo di Planet Explorers, gioco che ora entra nel vivo. Mi perdonerete se ci ho messo più di un anno con i gameplay ad arrivare fin qui, e se forse vi ho annoiato con questi video, che sembrano identici a quelli di qualunque altro survival, ma da adesso vedrete che le cose cambieranno radicalmente. Arrivederci alla prossima.